Il 6 maggio cade l'anniversario della traslazione dalle spoglie di San Matteo, apostolo e patrono di Salerno, nel duomo della nostra città proveniente da Rutino, nella zona di Capaccio, che secondo la tradizione avvenne nella notte tra il 5 e il 6 maggio 954, ovvero 1070 anni orsono. Anche se meno partecipata della festa patronale del 21 settembre, la festa della traslazione a radici antichissime, che riprende gesti e riti risalenti al Medioevo. Parliamo del dono dei columbri e dell'estrazione della manna dalla tomba dell'Evangelista. Riprendendo un gesto compiuto dalla gente che accolse le spoglie del Santo a Salerno nel 954, donando trofei di fiori, i cosiddetti columbri, parroci e rappresentanti delle varie parrocchie cittadine, hanno donato al loro patrono le tradizionali confezioni di fiori. Don Felice Molitierno, parroco del Duomo, ha poi eseguito il successivo rito dell'estrazione della manna dalla tomba dell'Evangelista, che si trova nella cripatà del Duomo, sotto l'altare bifronte, dove il Santo è rappresentato da una doppia statua di bronzo del Seicento, realizzata dal Maccarino. Il rito è stato ripreso nel 2023, dopo molti anni di interruzione, e si svolge due volte l'anno, nella vigilia della solennità del Santo, 20 settembre, e appunto il 6 maggio, memoria della traslazione delle reliquie. La manna in realtà non è altro che acqua condensata, spiega Don Felice al termine della celebrazione eucaristica, che si viene a formare all'interno del sepolcro e che per contatto con le reliquie del Santo è considerata una reliquia di terza classe. È un dono per noi, come un dono alla presenza dell'Apostolo Matteo, ma è anche un richiamo ad un'altra grande verità, la sete di infarto che alberga nel cuore di tutti. Noi dobbiamo dissetarci, conclude Don Felice, cosa che possiamo fare attraverso la parola che Matteo ci dona nel suo Vangelo e attraverso la vita dei Santi che hanno incarnato questa parola. Secondo la tradizione salernitana, la manna, nei secoli, viene distribuita ai fedeli, soprattutto ai malati, attraverso dei batuffoli di catone imbevuti. Essa, pur essendo il prodotto di un fenomeno naturale, rimane, proprio perché reliquia un segno di benedizione. Viene oggi distribuita, su richiesta, in una piccola medaglietta che contiene dell'ovatta errorata con il liquido, conservato dall'ultima raccolta.